Che l'Aquila faccia sul serio nella lotta per il primo posto del girone B di Lega Pro che assicura il salto di categoria in Serie B lo sia ulteriormente capito dalla campagna acquistica e sodalizio rosso-blu ha avviato in maniera perentoria ben prima dell'apertura ufficiale della sessione di gennaio. Sono già tre i colpi messi a segno dal responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola, il che la dice lunga di come ci sia stata volontà di dare immediatamente al tecnico Zavettieri quegli innesti importanti per far compiere all'Aquila un ulteriore salto di qualità. Essersi mossi subito fa sì che il tecnico stia già lavorando per inserire i tre tasselli nel mosaico aquilano. Tre nomi di spicco, il 29enne Francesco Virdis è un attaccante che sposta gli equilibri e il finalizzatore che tanto è mancato finora all'Aquila. E dopo la valangra di Goll in Maglia Savona ora avrà l'opportunità di compensare lo scarno bottino d'inizio stagione in quel Monza oberato da problemi societari. Filippo Carini è un altro gigante, un metro e novanta, che si aggiunge alla batteria di Colossi della difesa aquilana. Il 24enne Emiliano, cresciuto nelle giovanili del Modena, proprio con la maglia dei Canarini e successivamente del Padova, conta quasi 70 presenze in Serie B ed è stato contrattualizzato fino a giugno 2016. Il quarto centrale che mancava a Zavettieri ora il compito di stabilire le gerarchie. Uno partirà dalla panchina. Il terzo innesto è il difensore esterno Massimo Gotti, classe 85 ex Matera, sotto contratto per i prossimi sei mesi. E non è finita qui, perché il grave infortunio di Ceccarelli spinge ad un altro colpo. La pista caldissima è quella che porta al ritorno di Claudio De Sousa, dato in prestito al Como, la Pantera non sta entusiasmando in terra all'Ariana e potrebbero esserci le condizioni per un rientro alla base. Sul fronte Teramo, dopo l'innesto dello svincolato Luca Di Matteo, a metà dicembre le principali considerazioni si sviluppano sul fronte delle uscite, propedeutiche a future entrate. Se i nomi del portiere Federico Serraiocco e dell'esterno Cristian Buonaiuto, che piace tanto al Cosenza, sono quelli più gettonabili, non si arrestano le voci sul pressing insistente della sarenitana per l'attaccante Alfredo Donnarumma. Sui due gioielli d'attacco il presidente Campitelli è stato chiaro, Donnarumma e la Padula restano a meno di offerte irrinunciabili. Il reparto da rinforzare è quello di centrocampo, dove va innalzata la qualità. Per questo le attenzioni sono rivolte a Marco Criaco del Cosenza, già allenato ad Aprilia dal tecnico biancorosso Vivarini. Più difficile è arrivare all'ex Virtus Lanciano Alessandro Volpe, che ha rescisso con la sarenitana, ma che ha su di sé l'interesse di diverse squadre, alcune di Serie B.